wow willy wonka pare che non sia così difficile entrare nel paese del cioccolato wow questo posto è così bello chissà cosa ci offriranno iniziano i miracoli cosa abbiamo qui ho un dollaro di cioccolato sono così felice gnammi andiamo io ho dei soldi veri allora compra il mio cioccolato stai scherzando potrei comprarne dieci con questi soldi cosa oh no sono falsi una vera sfortuna non avresti dovuto vantarti devo distrarla in qualche modo chi è chi mi ha chiamato ok che c'è qui sì capisco occhiali da complotto scambio con attenzione fatto ehi sophie hai visto qualcuno strano vediamo cosa abbiamo hai vinto nella categoria miglior attrice congratulazioni wow davvero inaspettato lo sogno da una vita prima di tutto voglio ringraziare lucy per il fatto che questo oscar non sia andato a lei penso che il mio piano sia riuscito bene siediti con il tuo oscar sarebbe potuto essere di chiunque anche mio ora scopriamo cosa c'è qui dentro ambarabacici cocco credo che quel piatto resterà a me sì non è molto ho ricevuto un vero profumo di marca wow devo provarlo subito beh almeno il mio ha un buon sapore che odore orribile come può essere di moda una puzza del genere questo è un altro discorso meglio se vai a prendere un po d'aria non impedirmi di godere di questo delizioso dolcetto evviva una nuova delizia sophie ottiene una chiave inglese di cioccolato e lucia è di nuovo sfortunata cosa di nuovo volevo così tanto qualcosa di dolce cosa me ne faccio di questo non riesco nemmeno a vedere niente è assolutamente inutile dai posso dare un morso no scusa è tutto per me oh willy wonga perché è così cattiva ragazze guardate il mio occhio chi ha deciso di lanciare le chiavi inglesi siamo state sedute qui per così tanto tempo e non sta succedendo niente ecco fantastico ci siamo sì finalmente wow una macchina fotografica deve essere davvero buona a quanto pare lucia non era nemmeno arrabbiata per non aver ricevuto il cioccolato mi farò dei bei salti con questa macchina fotografica vediamo cosa willy wonga da dove viene amanda le cose cambiano molto velocemente nel paese del cioccolato ehi amica belle foto e uno due tre ha ho vinto uova fritte così buone al cioccolato gustose che sapore delizioso e io ho qualcosa che non ha un sapore buono uova fritte normali è per questo che sono nel paese del cioccolato non mi piace nemmeno è così scivoloso e disgustoso wow uova volante smettila di prendermi in giro ops bella signora pensavo di averti avvertita ti sta bene perché c'è solo un piatto oggi lo senti anche tu ci faranno saltare in aria cosa dovremmo fare ok guarda come sono forte posso gestire tutto andiamo perché non è successo niente che cos'è quello un semplice orologio ed eravamo così spaventate avevate paura di un vecchio orologio siete ridicole ecco chi ha mangiato l'orologio di cioccolato ok dobbiamo cambiare posto per renderlo più interessante fatto guarda non è così male luci non sapevo fossi così buffa non guardarmi così da vicino sono timida wow c'è tutto un mondo di zucchero non sapevo che esistesse una cosa del genere davvero non mi credi guarda tu stessa ah dammelo per cosa ma non troveremo mai più una cosa del genere quella luci è così snob ehi che hai detto evviva qualcosa di interessante prima io wow una scarpa di cioccolato non vedo l'ora di mangiarla apri che emozione c'è una scarpa da uomo malandata che schifo è disgustosa ragazza e qualcuno ha visto la mia scarpa eccola che schifo luci guarda quei calzini è terribile finalmente la mia scarpa sto per vomitare mi hai rovinato l'appetito luci è di nuovo sfortunata perché amanda ha trovato il cioccolato ne mangerò a volontà perché mi serve un microfono anche se ho un'idea e se provassi a usarlo per guadagnarmi delle caramelle jingle bells jingle bells cosa a willy wonk è piaciuta wow non me lo aspettavo wow ce l'ho fatta lussi me ne dai una per favore ok tieni ne ho così tante soprattutto perché posso sempre guadagnarne di più e poi mi ha chiesto di uscire riesci a crederci guarda questi hamburger come sono arrivati qui dovrebbero essere deliziosi proviamoli velocemente che odore così buono ferme anche a me è venuta un po di fame incredibile ma proviamo l'altro al cioccolato wow questo è ancora meglio ottimo spuntino oh sì proviamolo ma cos'è qualcuno lo ha già morso amanda come faccio a mangiarlo ora ho ancora fame ecco così va meglio amanda non è più divertente ridammelo subito e mentre le ragazze litigano posso farmi un prezzetto completo è meraviglioso non immagini nemmeno gli hamburger al cioccolato sono i miei preferiti cos'hai lì giù le mani lo prendo io oh guarda un papillon di cioccolato davvero inaspettato ho il vero papillon è sempre così allora mi sta bene sai anche quello non è male ragazze qualcuna ha visto il mio papillon è tutto il giorno che lo cerco no l'unico che ho è quello al cioccolato che strano credo di averlo visto da qualche parte di recente me lo sarò immaginato ci credi che sono riuscita a fregare willy wonka in persona sì sarà da ricordare cosa si sarà inventato questa volta il subdolo willy wonka quelle sono manette oh sto per mangiare di nuovo qualcosa di delizioso penso riconoscere una via d'uscita ehi amanda si sistemati i capelli sono così disordinati oggi davvero li sistemo subito springi fatto a cos'altro servono le manette mi dispiace ragazza no liberami non è giusto mi dispiace che oggi non sia il tuo giorno oh no un piatto pieno di ostriche adoro le ostriche sai è disgustoso allora prendi il mio piatto le ostriche sono così fresche belle oh spero ci sia qualcos'altro fantastico le ostriche al cioccolato sono un'altra cosa ne proverò una un sapore così sottile di cioccolato al latte ok un po di limone l'importante è non esagerare ed è pronta gnammi è deliziosa oh amanda non posso credere che non ti piacciano basta annusarla che velocità non finisci le ostriche al cioccolato buon per me chi è più veloce ma sono forbici normali non era questo l'accordo a che mi servono adoro le mie forbici di cioccolato ecco qua ora saprai come prendermi in giro e questo è il mio premio mi fai paura puoi ammere anche l'altra metà se vuoi grande ho fatto a modo mio ti piacerebbe entrare nel paese del cioccolato scrivilo nei commenti ti è piaciuto il nostro video allora metti un like iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella ci vediamo